liberamente il podcast di psicologia con storie idee consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di matteo neroni un saluto a tutti da matteo neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast liberamente il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale oggi ragazzi con questa puntata completiamo questa piccola miniserie dedicata al come creare il nostro futuro come possiamo diventare attori protagonisti co costruttori del nostro avvenire piuttosto che subirlo in maniera passiva oggi completiamo questa piccola rassegna su come diventare attori protagonisti del nostro futuro approfondendo un tema che secondo me non possiamo assolutamente ignorare il tema del tempo e soprattutto di come possiamo imparare a gestire il nostro tempo all'interno di questa puntata infatti approfondiremo uno strumento uno strumento utilissimo che può veramente fare la differenza nella gestione del nostro tempo infatti per la nostra realtà nulla è più misterioso e sfuggente del tempo esso da una parte ci appartiene ma nello stesso tempo un po ci sfugge ogni volta che proviamo ad afferrarlo abbiamo un po quell'effetto che abbiamo quando proviamo a stringere nel pugno della nostra mano la sabbia del mare no visto che ci abbiamo verso la bella stagione cominciamo anche a parlare delle vacanze dell'estate e del mare ecco se proviamo ad afferrare il tempo tante volte non ci riusciamo molti filosofi scienziati poeti artisti hanno cercato di dare una qualche risposta proveremo a vederlo all'interno di questa puntata e visto che il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo non perdiamo né altro e senza indugi entriamo nel cuore di questa puntata se scopriamo insieme uno strumento preziosissimo per imparare a gestire al meglio il nostro tempo come dicevamo poc'anzi molti filosofi scienziati poeti e artisti hanno cercato di dare nel corso della storia una qualche definizione del tempo una qualche risposta a quello che è uno dei grandi interrogativi irrisolti dell'uomo che cos'è il tempo già nel settimo secolo dopo cristo sant'agostino nelle sue confessioni diceva se nessuno me lo chiede so cos'è il tempo ma se mi chiede di spiegarlo non so cosa dire anche il noto filosofo esistenzialista martin heidegger affermò che gli mancavano le parole per poter parlare di questo argomento quindi se la definizione di che cos'è il tempo resta ancora un grande punto interrogativo quello che a noi interessa approfondire in questa puntata è come possiamo imparare a gestirlo infatti abbiamo spesso la sensazione di non avere tempo il tempo non ci basta mai e quindi questo significa che spesso e volentieri non sappiamo come gestirlo infatti il tempo è la risorsa come dicevamo prima più preziosa in assoluto questo lo sai perfettamente anche tu eppure è la risorsa che spendiamo in maniera più inconsapevole se ti chiedessi ad esempio in questo momento quanta attenzione metti nel gestire i tuoi soldi in banca scommetto che la tua risposta sarebbe che ci stai molto molto attento e a meno che tu non sia un imprenditore miliardario di successo scommetto che la preoccupazione dei soldi è una costante nelle tue giornate ma potresti dire di porre la stessa attenzione e la stessa cura nella scelta e nell'utilizzo che fai del tuo tempo quanto amore con quanta cura scegli le attività da compiere ogni giorno probabilmente quello che succede nelle tue giornate è che a guidare la clessidra del tuo tempo sono un po le diciamo abitudini classiche che hai durante la giornata magari accompagnare tuoi figli all'asilo oppure andare a fare la spesa fare le piccole commissione alla posta pagare le bollette insomma ognuno di noi ha delle scalette diciamo prevedibili della propria giornata e della propria settimana ma il rischio che abbiamo è che il tempo venga gestito più dalle nostre attività che da noi stessi e non ti preoccupare perché questo problema è davvero molto diffuso questo succede perché ci manca un metodo infatti come dicevamo nella metafora della sabbia stringere con forza la mano per rafferrare il nostro tempo non ti porterà altro che a perdere tempo piuttosto che a guadagnarlo ecco perché nella puntata di oggi completiamo questa mini serie sul come creare il tuo futuro consegnandoti chiavi in mano un nuovo strumento che può aumentare a dismisura la tua consapevolezza di come utilizzi il tempo è un metodo che io utilizzo e che spero possa iniziare a farlo anche tu la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo della gestione del tempo sono le classiche liste degli impegni le famose to do list ho dedicato una puntata del podcast su come costruire to do list efficaci lo troverai all'interno delle note di questo episodio e personalmente io amo fare to do list consegno spesso e volentieri a questo metodo la gestione del mio tempo di ogni giorno perché vedo che attraverso l'utilizzo efficace delle to do list torno ad avere controllo ad avere potere sul mio tempo anziché vivere la sensazione opposta infatti ogni volta che cancello con una linea il task appena svolto è una vera goduria ragazzi e questa sensazione è poi la benzina che mi permette di completare anche tutti gli altri task che mi sono prefissato all'interno della mia to do list ma perché quando riusciamo a completare tutti gli impegni che ci siamo programmati ci sentiamo così bene con noi stessi questo accade perché ogni volta che nella nostra mente si crea un task un appuntamento virtuale un qualcosa da fare se questo task rimane in sospeso nella nostra mente è come se un ciclo rimanesse aperto e anche se fai finta di non vederlo di non pensarci il tuo inconscio ne sa perfettamente l'esistenza se ne accorge benissimo e stai male al contrario quando la nostra mente vede tutti i task che abbiamo concluso durante la nostra giornata e che siamo stati in grado di fare tutto quello che c'eravamo prefissati di fare questo incide tantissimo positivamente sulla nostra autostima e attiva in noi un circolo virtuoso di benessere e di efficacia che non otteniamo mai se invece la lista delle cose da fare la viviamo solo nella nostra mente perché non basta solo fare le cose la nostra mente ha bisogno di vederle scritte nero su bianco quindi armatevi come sempre di carta e penna quando fate la vostra tutulista non lasciatela solo all'interno della vostra testa perché la nostra mente ha bisogno di vedere come impieghiamo il nostro tempo quali obiettivi gli stiamo dando da raggiungere e quelle che sono le priorità altrimenti si ingolfa ragazzi quindi prendi questa puntata come un favore che fai a te stesso e alla tua mente perché il metodo che voglio presentarti oggi punta proprio sulla capacità di dare priorità alle cose infatti se una giornata dura 24 ore diventa fondamentale dare priorità alle cose che dobbiamo fare quindi dopo aver effettuato una bella to do list dove inserisci tutti i tuoi task che vuoi fare all'interno della tua giornata utilizza la matrice di asenauer questa matrice prende il nome dal 34esimo presidente degli stati uniti d'america che era una persona estremamente efficace e produttiva questa matrice ti permette di gestire la priorità delle cose che devi fare attraverso una valutazione delle attività seguendo quattro criteri per massimizzare la tua produttività ciò che è importante infatti come diceva esenauer raramente è urgente e ciò che è urgente raramente è importante questa frase che viene attribuita appunto a esenauer viene tradotta in maniera pratica all'interno di una matrice se vuoi avere una visione più chiara di questa matrice più tardi condividerò un'immagine diciamo concreta di questa matrice all'interno di liberamente whatsapp il canale su whatsapp dedicato a tutte le menti libere quindi la matrice di esenauer è uno strumento che ci serve per ordinare le priorità separando ciò che è urgente da ciò che è superfluo classificando le attività giornaliere che dobbiamo fare in base al loro grado di urgenza e di importanza prima di spiegarti come funziona questa matrice è opportuno precisare che importante è un concetto soggettivo cioè ciò che è importante per te può non esserlo per qualcun altro e inoltre ciò che è importante oggi può non esserlo in un altro momento della tua vita quindi le priorità sono legate inevitabilmente ai nostri valori ai nostri scopi ai nostri principi e ai nostri obiettivi quindi spero che tu abbia ascoltato in maniera profigua le due puntate precedenti a questa ultima puntata della miniserie su come creare il tuo futuro e quindi possono essere diverse per ciascuno di noi imparare a gestirle con la consapevolezza della nostra scala di valori è quindi fondamentale per una efficace gestione del tempo soprattutto quando ci troviamo a lavorare in team e in team non vuol dire necessariamente lavorare in un'azienda un team è anche la tua famiglia quindi gestire il tempo diventa fondamentale soprattutto quando hai a che fare con gli vari impegni dei vari elementi anche della tua famiglia invece il concetto di urgente è un concetto oggettivo e dipende unicamente dalla variabile tempo va applicato quindi a quelle attività che richiedono la tua attenzione immediata o comunque a brevissima scadenza ma entriamo nel vivo di come funziona la matrice di eisenhower allora questa matrice si costruisce combinando appunto i due parametri dell'urgenza e dell'importanza e si ottengono quindi quattro quadranti lo devi immaginare come se da una croce apparissero questi quattro quadranti la combinazione del parametro urgenza e del parametro importanza creano quindi quattro quadranti diversi tra loro e potremmo riassumerli così il primo quadrante è il quadrante della crisi dove ci sono tutte le attività urgenti e importanti il secondo quadrante è il quadrante della qualità dove vai ad inserire dalla tua to do liste iniziale tutte quelle attività importanti ma non urgenti il terzo quadrante è il quadrante dell'inganno cioè dove dobbiamo mettere tutte quelle attività che sono urgenti e non importanti il quarto e l'ultimo quadrante è il quadrante dello spreco dove dobbiamo andare a mettere tutte le attività non importanti e non urgenti analizziamo ora i singoli quadranti nel dettaglio nel quadrante 1 quindi nel quadrante della crisi troviamo quelle azioni che vanno compiute al più presto e che non sono delegabili ad altri ad esempio progetti in scadenza telefonate ai clienti problemi pressanti da risolvere con urgenza oppure bollette da pagare ecco tutte le attività che sono all'interno del primo quadrante sono attività che vanno ridotte al massimo quindi devi cercare di avere meno attività possibile all'interno di questo quadrante in quanto sono quelle che aumentano il rischio di farti perdere il controllo della situazione trovandoti a lavorare in un perenne diciamo stato di emergenza e di ansia in breve se la maggior parte della tua giornata è concentrata nel quadrante 1 quindi nel quadrante della crisi hai difficoltà a gestire il tuo tempo e sono quindi gli impegni a gestire te nel quadrante numero 2 il quadrante diciamo della qualità è il quadrante relativo alle azioni importanti ma non urgenti in questo quadrante quindi ci sono tutte quelle attività che hanno a che fare con il tuo benessere ad esempio all'interno di questo quadrante potresti mettere l'iscrizione a quel corso di formazione a cui tieni tanto oppure andarti a scrivere in palestra oppure andare in palestra se sei già abbonato trovare magari il tempo per dedicarti alla lettura oppure andare a fare i controlli degli esami medici per preservare la tua salute ecco all'interno di questa di questo quadrante il quadrante della qualità ci sono racchiuse tutte quelle attività che servono ad aiutarti a gestire meglio te stesso e il tuo tempo aumentando la qualità della tua vita il problema è che se continui a rimandare a procrastinare l'esecuzione delle attività che sono all'interno di questo quadrante il quadrante della qualità quello che sperimenti è un forte stress personale un grande senso di frustrazione e potresti anche a incappare in dei problemi proprio di crisi emotiva perciò mi raccomando attenzione all'attività che inserisci all'interno del quadrante 2 il quadrante della qualità ma passiamo al quadrante numero 3 dove inseriamo le attività urgenti ma non importanti infatti questo quadrante è associato al concetto di inganno all'interno di questo quadrante infatti dovremmo inserire tutte quelle azioni che nell'immediato riteniamo assolutamente urgenti e che consideriamo in maniera ingannevole anche importanti da fare ma che quasi sempre sono legate e dipendenti ad altre persone o comunque a situazioni esterne da noi spesso e volentieri queste azioni infatti si rivelano anche delegabili basta pensare per esempio ogni volta che ci accogliamo un problema di qualcun altro senza lasciare a lui la possibilità di organizzarsi e di risolversi il problema da solo o tutte quelle mansioni che magari viviamo a casa e che invece potremmo gestire delegando agli altri componenti della famiglia impiegare il tuo tempo nell'attività del quadrante 3 non farà altro che rubarti risorse preziose ed energie mentali per occuparti di ciò che ti riguarda e che ti interessa per davvero ed eccoci arrivati al quadrante numero 4 che comprende tutto ciò che è puro e semplice spreco di tempo questo quadrante è estremamente utile perché ci permette di sganciare dalla nostra to do lista iniziale da quella lista infinita di cose che dobbiamo fare tutte quelle attività che rappresentano un po una via di fuga cioè tutte quelle attività che preferiremmo fare piuttosto che affrontare degli impegni che invece ci mettono magari paura che ci richiedono sforzo potremmo dire che queste attività del quarto quadrante sono un po uno specchietto per la lodole con cui ci diciamo di aver fatto delle cose ma poi quello che otteniamo è un rimpianto per aver spiegato inutilmente il nostro tempo è quindi evidente ragazzi che più occuperemo il nostro tempo con le attività del quadrante 1 e del quadrante 2 rispettivamente il quadrante della crisi delle cose veramente importanti ed urgenti da fare e il quadrante 2 che sono le cose importanti ma un po meno urgenti e meno saremo costretti ad affrontare situazioni di emergenza provando ansia e preoccupazione per i nostri obiettivi quindi ragazzi la matrice di Eisenhower è davvero uno strumento potente ed efficace che ci permette di pianificare in maniera anticipata tutti quelli che sono le attività i task e gli obiettivi che vogliamo raggiungere all'interno delle nostre giornate se imparerai a utilizzare in maniera costante la matrice di Eisenhower per la definizione dei tuoi obiettivi e dei tuoi task giornalieri ti garantisco che non avrai più rimpianti su come hai vissuto la tua giornata perché questo strumento ti restituirà non solo un senso di efficacia per aver assolto a compiti importanti ed urgenti ma soprattutto ti dà la possibilità attraverso il quadrante 2 di dare spazio a tutte quelle attività che sono rivolte a te al tuo benessere e alla tua crescita personale eccoci ragazzi anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata io sono contentissimo di aver concluso insieme con voi questo piccolo viaggio all'interno di come creare il nostro futuro come essere protagonisti attivi di ciò che ci aspetta nell'avvenire piuttosto che attenderlo in maniera passiva e spero davvero che questo strumento anche della matrice di Eisenhower possa rivelarsi uno strumento efficace per la tua crescita personale e nella gestione del tuo tempo e della tua produttività ma prima di salutarci come sempre lasciami dire che se è la prima volta che passi da questo podcast devi sapere che esiste una community delle menti libere che cresce ogni giorno di più ogni settimana attualmente siamo arrivati ragazzi ad essere 170 persone che utilizzano lo strumento di liberamente anche su whatsapp se vuoi sapere di cosa si tratta all'interno delle note dell'episodio troverai il link per inviarmi il messaggio sono una mente libera e in questo modo entrare direttamente nella community delle menti libere e anche una piccola landing page un piccolo sito internet nel quale ti spiego come funziona questo speciale canale su whatsapp e devi sapere anche che questo podcast è reso possibile da tutte quelle menti libere che a un certo punto ascoltando il podcast ricevendo tutti i contenuti extra all'interno del canale whatsapp delle menti libere hanno deciso di fare un passo in più di diventare anche finanziatori di questo progetto si sono detti sai che c'è a me questo progetto di matteo mi piace voglio entrare a farne parte allora anche con un piccolo finanziamento da un dollaro comincerò a sostenere il suo progetto quindi ragazzi se volete anche voi diventare finanziatori del progetto liberamente permettere a questo podcast di continuare a crescere troverai il link per diventare finanziatore all'interno sempre delle note di questo episodio ragazzi io vi do veramente un grandissimo saluto buon weekend a tutti ci vediamo alla prossima puntata liberamente il podcast di psicologia con storie idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di matteo neroni ciao ciao ciao